Rispetto, condivisione, amicizia, fratellanza, i valori sani dello sport sono protagonisti di un concorso fotografico nelle scuole napoletane promosso dall'associazione Ciro Vive guidata da Antonella Leardi. L'iniziativa presentata questa mattina in sala giunta è realizzata in collaborazione con lo studio di fotografie Enrico e gode del patrocinio dell'assessorato all'istruzione del comune. L'idea è proprio di coinvolgere i ragazzi in modo che possano innanzitutto essere incentivati e stimolati da questo concorso e renderli partecipi proprio affinché possano comprendere che comunque nello sport ci devono essere cose positive. Quindi l'idea è proprio quella di aggregare varie scuole, varie età di ragazzi tra i 5 ai 9 anni e dai 13 ai 19 anni. Una foto che possa essere emblema, che possa essere exemplum di un valore positivo come la fratellanza, la solidarietà, l'abbraccio all'amico, il soccorso nei momenti di difficoltà, la regola del gioco. Ecco, se i ragazzi delle scuole stimolati da questo bando di concorso coglieranno questi attimi potremmo almeno restituire un'altra narrazione dello sport che è quella che poi ci interessa di più per farli crescere. Gli allunni delle scuole coinvolte si cimenteranno fino ai primi di maggio nello scatto e nell'invio di foto di attività sportive che mettano in evidenza i valori positivi della vita. I primi tre classificati del concorso riceveranno in premio una macchina fotografica digitale. Bella iniziativa, raccontare lo sport attraverso lo scatto, attraverso quei valori sani che soltanto lo sport riesce a regalare. Insomma, farlo con l'associazione Cirovive che rappresenta qualcosa di straordinario per la città, su un dramma che abbiamo vissuto tutti quanti insieme, dà ancora più significato a questa iniziativa. Lo facciamo insieme con l'assessorato all'educazione, diventa un bel momento per stare insieme scuola, sport, ma soprattutto questi scatti che ci regalano sicuramente immagini di una città che noi vogliamo sempre più diversa. Grazie.